Che ne dite di un bel haul? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' diverso dal solito. Io non sono una che molto spesso fa vedere quello che acquista o quello che riceve dalle aziende. Non perché non mi piaccia vedere questi video, ma perché mi dispiace instillare quel senso di vorrei nelle persone. Preferisco farvi vedere ciò che utilizzo mentre lo utilizzo e darvi il sapore appunto reale di quello che hanno le cose. Però recentemente ho acquistato una serie di cose che per me sono necessarie o se non sono necessarie sono delle bellissime novità e vorrei condividerle con voi perché credo che qualcuna di queste cose possa piacervi o convenirvi. E quindi eccomi qui a dirvi cosa ho comprato in questo periodo. Come prima cosa su Amazon ho comprato questi tamponcini. Questi oggettini qui sono sempre super sottovalutati perché vengono visti come i pennelli della scuola materna, diciamo così. In realtà per dipingere su determinate superfici poco aggrappanti questi sono un'ottima soluzione. Usati con l'acrilico o con gli smalti e tamponando riescono a dare una coprenza eccezionale anche a superfici su cui solitamente la pittura slitterebbe. Pensiamo per esempio ai barattoli di vetro, alle lattine. Per passare un acrilico su un barattolo di vetro o su una lattina a pennello si fa una grande fatica. Tamponandole invece con questi tamponcini a spugna vedrete che avrete molto più giovamento e una resa sicuramente più coprente del colore. Di conseguenza averli in casa è sempre utile. Io li ho presi su Amazon. Vado un po' random. Un'altra cosa che costa pochissimo non ricordo i prezzi queste cose fino adesso le ho comprate io non ricordo i prezzi ve li metto comunque giù in infobox i link. Un'altra cosa che ogni volta che trovo io acquisto alla Lidl sono i blocchi di carta colorata della Crelando. Io li trovo utilissimi sia per tutti i lavori che facciamo qui di Arte per Te di Scrapbooking dove usiamo carte colorate per la creatività ed il ritaglio non per disegnare queste non le uso per disegnare le uso per il crafting e sono utilissime anche adesso per scuola per Enzo. Mi è capitato più e più volte che l'insegnante di storia dell'arte cercasse del piccoli scampoli di carta colorata e qui c'è sempre il colore che serve. Sono tra l'altro in due grammature c'è il cartoncino e la carta colorata e sono anzi c'è il cartoncino più leggero blocco di carta colorata da 135 grammi ecco qui e invece il cartoncino da 270 grammi in due blocchi comodissimi un sacco di colori da avere sempre a portata di forbici e quindi li compro sempre e li uso sempre tra l'altro sono tutti colori molto molto utilizzabili non ci sono quei colori cuscinetto diciamo così che non riesce ad utilizzare e anche la carta è di ottima qualità ho comprato voi sapete che io collaboro con la Fabriano da anni oramai però capita anche a me di dover fare dei video dei corsi come ad esempio il corso di tecniche pittoriche in cui mi serve una carta in particolare che ho finito e sinceramente mi scoccia scrivere all'azienda per ogni blocco che finisco per farmelo inviare così capita anche a me di acquistare blocchi e qui volevo farvi vedere che ecco ancora vedete con la carta in tonso ho acquistato Mixed Media della Fabriano questo credo che sia l'album più versatile per chi fa creatività io l'ho preso su Amazon vi lascio il link qua sotto è un blocco da 60 fogli e questo non lo dovete sottovalutare perché sono 60 possibilità di prove e di disegni con una grammatura da 160 grammi questo è a grana fine è sempre un semiruvido quello che io intendo proprio come semiruvido se lo toccate non è del tutto liscio sentite una granulometria una porosità però molto stirata quindi è aggrappante ma non corrugante il foglio e in più è ottimo sia per le tecniche disegnate che per le tecniche acquerellate viene bellissimo anche l'olio qua sopra perché l'ho provato e ha un buon controllo anche della grassosità della materia quindi un blocco per tutte le tecniche ce ne sono di pochissime marche in giro ma questo è il migliore che io abbia mai provato ve lo consiglio da anni e quindi l'ho acquistato e ve lo consiglio anche oggi disperata perché sono stata disperata per molti anni nel senso che l'uniposca non collabora con arte per te mi avevano chiesto una volta una collaborazione non ci siamo non siamo riusciti a metterci d'accordo e da allora io gli uniposca me li devo comprare ma ovviamente e li ho comprati li ho comprati sempre ma li avete visti sempre usare in maniera copiosa sul canale però per l'utilizzo appunto copioso che ne faccio io è una spesa veramente veramente ingente anche perché di solito poi arriva Enzo che me li rubacchia e me li rovina e io non sono una di quelle mamme che riesce a dare lo stop no questi mi servono per il mio lavoro non li devi toccare perché se mio figlio mi chiede un oggetto creativo io non glielo toglierò mai di mano e contro ogni mio principio quindi capite bene che questi uniposca poi finiscono devastati tra le mani di un bambino e allora ho dovuto darmi verso insomma e ho dovuto cercare delle alternative leggermente più economiche perché le aziende di colori con cui collaboro io non fanno questo tipo di marker e quindi ho dovuto cercarmelo e ho dovuto cercarmi delle alternative low cost ve ne mostro due che tra tante che ne ho provate e che facevano veramente ne ho trovate due invece che sono molto molto carine di cui e costano una mi pare 7 euro e una meno di 5 euro però aspettate quella da 7 euro 7 o 13 non mi ricordo comunque anche fosse 13 euro mi metto i link qua sotto è un affarone perché un pennarello di brandizzato diciamo così costa quanto 5 pennarelli di questi allora ho comprato questi bigo 18 pezzi acrylic paint marker e devo dire che pur non essendo di una marca eccelsa fanno il loro colorato lavoro sono veramente dei buoni pennarelli ad acrilico vi faccio vedere la loro forma eccoli qua assomigliano molto anche agli altri questo ancora è in tonso magari ve ne faccio vedere un altro che ho usato ho usato il bianco ho usato il rosso a me interessa molto spesso il bianco di questo tipo di eccoli qua guardate con la loro penna e hanno la punta pressione da cui esce appunto il colore hanno una buona intensità sicuramente la bellezza del colore non è come quella degli uniposca voglio essere sincera con voi nel senso la squillantezza ecco di alcuni colori non è all'altezza degli uniposca però devo dire che nel panorama dei marker ad acrilico questi io li vorrei al secondo posto cioè mi piacciono mi piacciono veramente molto tra quelli che ho provato magari domani ne provo un altro che mi piace tantissimo e ve lo vengo a dire ho acquistato non immaginerete mai dove anche questi allora questo è stato un errore nel senso che mentre cercavo marker li ho acquistato questo qua ho acquistato questi qua su internet vi faccio vedere cioè hanno un bellissimo bellissimo tratto li ho acquistati penso su amazon però non ne sono più tanto sicura ora lo ricerco e ve lo metto qua sotto perché poi mi sono accorta che arrivano da shane sì il negozio di vestiti quello molto controverso cinese bene anche loro arrivano da shane avranno un reparto cancelleria che oramai si sta ingrandendo e che contiene anche dei pennarelli e devo dire che sono fotonici funzionano benissimo costano pochissimo e sono molto buoni per l'uso disegnato non emettono nessun tipo di odore sono all'acqua non hanno credo nulla di pericoloso perché sono semplicemente marker naturalmente magari non dateli ai bambini che possono ciucciarseli ma questo nessun tipo di marker perché insomma l'uso deve essere quello del disegnarci e nessun altro bene è questa la mia grande scoperta ho acquistato un altro di questi stupendi questi acquarelli ve li avevo già fatti vedere sono gli acquarelli curetache me li ero fatti regalare già l'anno scorso me li avevano regalati già l'anno scorso e ne ho comprato un'altra confezione in visione del corso di tecniche pittoriche guardate che meraviglia perché quelli già diciamo si sono sono ampiamente consumati e qualche vaschettina non c'è più e di conseguenza ne ho preso un'altra scatola perché andavano ripresi stupendi curetache ve li consiglio sono degli acquarelli con queste vaschettone immense sotto c'è scritto il colore che si solubilizzano io spruzzo sopra l'acqua e solubilizzo tantissimo e sono veramente squillanti e meravigliosi c'è la recensione sul canale di questi ve la metto qui giù nel box informazione e anche questi li trovate su amazon stupendi se cercate degli acquarelli meravigliosi non sapete quali comprare cercate un buon rapporto qualità prezzo quantità prezzo questi sono fenomenali bellissimi stupendi alla Lidl salto di pala in frasca non so dove è l'altro tubetto eccolo alla Lidl ho acquistato questi della Pelican il bianco della Pelican una sorta un incrocio tra una tempera una gouache e un inchiostro che ho deciso di utilizzare per fare le rifiniture che ne sono le tecniche miste nei disegni ad inchiostro sono tre tubetti di bianco carinissimi che il biancocina il famoso biancocina che ho deciso di acquistare costato pochissimo penso che tutta questa confezione con tre tubetti così sia costata a meno di tre euro e sono stata contentissima di questo acquisto che se trovate vi consiglio perché il bianco da avere è sempre molto importante per le tecniche ad acrilico per le tecniche a tempera per le tecniche ad inchiostro non per le tecniche ad acquarello bene quindi questo lo trovate alla Lidl sempre alla Lidl ho comprato una cosa bellissima tadaaa la tavoletta luminosa questa è una tavoletta luminosa che serve per ricalcare ve la faccio vedere ancora ora devo utilizzarla ancora con la sua carta ed eccola qua si attacca con il suo alimentatore o al pc o a una presa fa l'uminescenza mettete sopra i fogli da ricalcare ricalcate a cosa può servire questa questa a me serve per correggere alcuni disegni molte volte io disegno delle cose o prendo si disegno delle cose e non voglio perché magari mi serve per lavoro perdere tempo a rivedere il tutto allora prendo poi l'immagine la metto sotto e vedo se ho imbroccato bene le proporzioni o può servire per darmi i punti di fuga o può servire anche per ricalcare la forgia di un elemento per poi svilupparla in disegno perché non pensiate che ricalcare renda l'opera d'arte moltissimi pittori famosi ricalcano le loro opere e poi dipingendoci sopra le fanno loro è possibile farlo non è barare perché tutto il lavoro che viene messo sopra nobilita diciamo così il ricalco il ricalco serve soltanto per chi fa questo lavoro quotidianamente per chi vende le proprie opere quotidianamente ha bisogno di una certa sveltezza e velocità nel fare le cose per accelerare i tempi per invece chi fa disegno io la consiglio proprio come correttore fate prima il disegno a mano libera e poi se non riuscite a capire dove avete sbagliato questo è un ottimo strumento per controllare gli errori certo se lo userete sempre per traslare pari pari quello che è il disegno di una fotocopia su un foglio di carta questo non vi farà crescere come artisti ma se invece lo usa perché poi lo strumento è l'uso che se ne fa non è lo strumento in sé se lo userete come correttore invece vi sarà veramente enormemente utile per andare avanti nel vostro percorso da disegnatori se fate questo per professione potrebbe proprio accelerare in maniera esponenziale i tempi di produzione e quindi una maggiore produzione equivalgono di solito a un maggior guadagno e quindi l'ho acquistata sempre su amazon trovate tra l'altro a un ottimo prezzo ho acquistato l'oro le ho sempre nel mio cassetto sono le micron le pigma micron e sono le penne per i disegni queste sono meravigliose il set completo con tutte le punte e anche quella pennarello quella brush e diciamo che da quando le ho scoperte uso molto spesso l'oro per i disegni perché sono fantastiche al momento dell'acquerellatura non cedono minimamente non spandono stanno sono permanenti sono ferme lì e non cambiano non vengono viziate dal pigmento che si passa accanto le trovo fenomenali come penne e quindi ogni volta che mi si scarica una penna io prendo tutto il set perché tanto so che le utilizzo e quindi queste sono sempre un must have se fate disegni a penna bellissime penne novità meravigliosa appena arrivata dall'azienda tintoretto ogni anno io risento le aziende con cui collaboro e quest'anno mi hanno chiesto ombretta di che genere di pennelli hai bisogno e io ho chiesto se era possibile ricevere qualche novità a manico corto perché sono i pennelli che uso di più sia nelle tecniche acquarellate che nelle tecniche a blocco che sono quelle che uso maggiormente per arte per te guardate che meraviglia mi hanno mandato allora letter stroke qui guardate che pennelli stupendi questi sono bellissimi sia per appunto il lettering sia per le campiture acquarellate un taglio pazzesco delle setole lunghissime quindi che si caricano moltissimo di acqua che assistono assolutamente il disegno non facendolo scaricare non vedo l'ora di utilizzarli con voi intanto ve li faccio assaporare così guardandoli ve li faccio vedere tutti perché mi hanno mandato pennelli stupendi questi qui i pennelli più piccolini diciamo sono i pennelli che io adoro 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 poi mi hanno mandato un bel po' di sintetico bronzo 0 e 1 ho chiesto pennelli da precisione e vi posso assicurare che questi sono mi chiedete sempre ombretta qual è il giusto compromesso tra prezzo setole che non siano di origine naturale perché molti si spaventano delle setole di origine naturale ma nessun animale viene ucciso per i pennelli vorrei dirlo dal punto di vista dell'inciso comunque tra tutti io i tintoretto sintetico bronzo li adoro e qui sono i numeri 1 guardate che punta fenomenali 0 meraviglioso e 2 stupendi stupendi è 2 è doppio 0 no allora sono 1 0 e doppio 0 vi faccio vedere guardate quanto è piccolo il doppio 0 questi sono pennelli detti anche da rigatino o da ripresa pittorica a tratteggio sono fantastici pennelli anche per il restauro per chi sta imparando io ho fatto tutta l'accademia con questi pennelli per intenderci quando ancora non collaboravo con la tintoretto ma la mia formazione accademica da restauratrice è stata fatta ad opera loro quindi sono felicissima di ristringerli tra le mie mani tra l'altro sono pennelli di una durevolezza incredibile poi 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 sono arrivati sempre sintetico bronzo i pennelli che io chiamo tiraline i tiraline sono questi pennelli con queste setole molto lunghe e sottili sono quei pennelli che si basano molto sul movimento del polso è il rilascio lento è costante della della materia che ospitano diciamo così sono pennelli da precisione che usati con disinvoltura riescono a regalare una continuità di flusso e una morbidezza del disegno che nessun altro pennello riesce a dare me li avete visti usare già i tiraline di tintoretto e sono magari forse quelli che ho usato la volta scorsa sono di setole naturale non mi ricordo avevo nel manico nero dovrei averli qua tra l'altro eccolo qua no no niente era sempre il sintetico bronzo vedete questo è il mio che uso abitualmente sul canale questi sono quelli nuovi adoro e poi tutta la linea sintetico bronzo questa se la trovo su amazon vi metto i link perché questi per acquerello sono spettacolari tutta la linea il 3 il 6 il 4 del sintetico bronzo ma guardate che belli anche la laccatura la ghiera si sono pennelli sintetici ma sono pennelli sintetici di lusso e hanno un rilascio ve li vedrete in opera molto presto e hanno un rilascio della della materia io questi li uso soprattutto per acquerello acrilico e tempera all'uovo e con tutte e tre le materie si comportano egreggiamente ma sono ottimi anche per l'olio che ultimamente ho un po' trascurato ma che riprenderemo molto presto poi continuiamo questi sono belli stupendi questi sono poi i miei preferiti quelli che vi consiglio sempre guardate che eleganza manico nero ghiera dorata questi anche questi sottilissimi ho chiesto numeri molto piccoli e sono i sintetici martora la martora sintetica il pennello sintetico è flessibile per eccellenza la sua flessibilità e la sua capacità di trattenere quello che trasporta quindi o l'acquerello o l'acrilico da questo pennello il premio massima precisione se poi vogliamo premiarci e vogliamo farci un regalo eccezionale per i nostri acquerelli questi per l'acquerello io vi consiglio i martora colinski eccoli qua questi sono pennelli in setola naturale guardate già quante diversa la bombatura del pennello sono spettacolari con questi mezzo acquerello lo fanno loro è vero lo strumento aiuta in maniera esponenziale l'artista ve lo dico sempre carta e pennelli fanno la differenza in ambito artistico è inutile negare questo più dei colori più dei colori paradossalmente potete dipingere anche col caffè ma se dipingete su un supporto buono e con i pennelli buoni vi riesce bene lo stesso perché come spandono come riportano come riescono sia la carta che il pennello a trattenere ed elargire il materiale ancora pennelli eccoli qua che meraviglia questa è una linea che a me piace tantissimo è il sintetico furetto quindi imita le setore del furetto ma sono assolutamente sintetiche innanzitutto la bellezza ma poi la morbidezza di questi anche questi flessibili con ghiera opaca questi bellissimi anche per la gouache riescono ad accompagnare bene a rilasciare perfettamente anche le materie più grasse quindi questi sono molto versati dalla materia molto grassa come per esempio può essere una gouache o una tempera grassa a una materia molto leggera come un acquarello per le campiture più ampie adoro entrambi sempre della linea sintetico furetto quindi manici opachi e punte spettacolari con questa doppia cromia bellissimi ci sono anche i pennelli con i numeri più piccoli da precisione anche questi fantastici per tutte le tecniche veramente tutte 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 sono morbidi flessibili ma nello stesso tempo molto accoglienti e quindi vedrete quanto li utilizzeremo nel corso dell'anno sempre della linea sintetico martora è arrivata anche la serie completa appunta dal numero 8 al numero 0 bellissimi per acquarello acrilico tempera stupendi non vedo l'ora di farveli vedere all'opera ma guardate l'eleganza sono stupendi questi pennelli la tintoretto ha dei pennelli stupendi non smetterò mai di dirlo non c'è un'imperfezione non c'è una cosa lasciata così alla casualità sapete molto spesso le case d'arte mettono in commercio anche cose che anche se hanno qualche piccola imperfezione vabbè tanto verranno sciupati e scapita di trovare magari degli oggetti che hanno qualche piccola imperfezione sul manico qualche bolla di laccatura qualche ghiera non chiusa perfettamente questi sono dei gioielli sono perfetti e li adoro io amo sia le impugnature laccate che le impugnature grezze come per esempio questi stupendi tiraline che adoro con l'impugnatura grezza proprio per il lavoro che devono fare questi si chiamano letter writer quindi servono sì per penso anche per scrivere sono stati progettati per forse la brush lettering ma appunto come tutti i pennelli tiraline guardate cos'è è una lancia questo pennello una guardate che precisione di taglio e guardate che bellezza proprio questo accostamento di satinato e ghiera nera voilà guardate che belli con questi ci si può molto divertire sono pennelli da decorazione anche stupendi non soltanto da lettering a quanto vedo ma anche credo da decorazione letter quill questi sono guardate che meraviglia guardate ora mi informo meglio perché queste sono solo le prime impressioni e poi le utilizzeremo insieme vi farò una recensione più approfondita stupendi quindi grazie alla tintoretto per queste meraviglie che durante il corso di quest'anno vi farò vedere sul tavolo da lavoro di arte per te le scopriremo tutte nella loro intrinseca capacità di coloritura passiamo adesso a altre cose che ho acquistato preso su amazon è un regalo di natale me l'hanno regalato i miei suoceri tada che meraviglia la gouache della mihia penso si dica mihia non lo so come si dice ma so che è questa cosa qua guardate vi faccio vedere un attimo quell'altro togliere tappo e cosa si trova dentro è pesantissimo si trova dentro questa meraviglia vi faccio vedere cos'è ne prendo uno a caso eccolo vaschettine di gouache questo facciamo prestissimo una super recensione con dipinto annesso sono tutti colori stupendi faccio vedere prendo così a caso nero cosa prenderò adesso verde ecco qui insomma della gouache spettacolare io vi ho dato la mia ricetta della gouache che è meravigliosa la trovate sul ricettario dell'arte il mio libro che trovate in tutte le librerie edito da Gribaudo e la mia gouache è spettacolare ma ho voluto provare anche una mega gouache super blasonata ho già provato quella della my mary che è una gouache di lusso ho voluto provare una gouache ecco che si ponesse non come prodotto di nicchia perché quella della my mary è molto molto costosa e quindi capisco che un neofita non ci si accosti in maniera spensierata questa invece ha un ottimo rapporto quantità convenienza qualità dicono da quello che ho sentito dire in giro perché questo costa sulle 57 euro tutta questa confezione di gouache e voglio proprio metterla a confronto con la gouache homemade di cui vi lascio il link in infobox che è trattata sul mio ricettario dell'arte e di cui ho ancora qui la produzione che abbiamo fatto nel video assieme ed è una gouache che ancora è perfetta e sono passati più di tre mesi da quando l'abbiamo fatta insieme quindi voglio proprio provare le due per dirvi ok usate questa oppure naturalmente per chi non ha i pigmenti per chi non vuole spendere un capitale per chi vuole comunque una gouache di qualità provate questa molto il prossimo video credo che sarà proprio la recensione di questa gouache mia che ne pensate la volete vedere lasciatemelo scritto tra i commenti poi mi son fatta regalare dal mio dolce maritino una cosa bellissima questa proprio gliel'ho chiesto e lui me l'ha fatto trovare sotto l'albero questo qui sapete cos'è è bellissimo è un set per la ceralacca questa è tutta quanta ceralacca colorata questo è il fornelletto per mettere la candelina dentro e sciogliere la ceralacca qui c'è il cucchiaino per raccogliere la ceralacca poi ci sono timbri c'è un timbro poi c'è il timbro a forma di apina e poi due pennarelli un argentato e uno dorato per colorare la ceralacca ma a me interessa perché interessa la ceralacca perché mi sono regalata una cosa bellissima ve la faccio vedere tada cos'è il timbro per ceralacca di arte per te l'ho fatto fare dal mio tipografo e da oggi tutte le creazioni arte per te verranno fuori col timbro e la ceralacca della maison diciamo così maison arte per te non suona bellissimo e siccome ero in un'enfasi di personalizzazione delle mie opere ho fatto fare anche questi non sono bellissimi gli adesivi di arte per te sia quelli naturali a seconda per quello che bisogna confezionare molto spesso mi capita che mi vengano commissionate per esempio degli acquerelli per delle bomboniere allora utilizzerò questi così come quando mi vengono confezionati invece dai regali utilizzerò il logo classico di arte per te che è rosso li ho fatti fare sono felicissima di averli fatti fare alternerò c'era l'acca a adesivi poi ho comprato un'ultima cosa un ultimo set che vi faccio vedere adesso così non vi dirà nulla ma quando vedrete quello che ci farò impazzirete e ho comprato su amazon una serie di fiori secchi forse già ve li avevo fatti vedere un'altra volta ne ho comprati un altro set guardate che belli sono tutti i fiori essiccati fiori naturali stupendi voglio farci dei quadretti in più qualcuno lo sto essiccando io foglioline guardate che meraviglia foglioline ancora foglioline queste le trovate su amazon facilissimi da trovare non a bassissimo prezzo però sono essiccate estremamente bene quindi se uno vuole fare dei quadretti di una certa qualità questi sono sicuramente più belli dei fiori essiccati in casa però anche quelli si possono utilizzare e per fare i quadretti ho acquistato anche queste due cose questo è un conduttore diciamo così e questo è stagno io ho anche il saldatore che ho preso la lidl molti anni fa per fondere lo stagno questa è uno scotch di rame per contornare i quadretti poi si passa sullo scotch di rame il conduttore e poi si brucia lo stagno per sigillare e qui la patina anticante per lo stagno faremo cose stupende ho visto qualche video su instagram che mi ha fortemente ispirato incuriosito quindi voglio provare questa tecnica di fabbricazione di quadretti non vedo l'ora e allora questo è il mio haul fatemi sapere cosa volete vedere all'opera al più presto tra i pennelli la tavoletta luminosa la cera lacca la gouache i quadretti con i fiori fatemi sapere cosa in che ordine volete che io sviluppi la produzione artistica di arte per te in merito alle vostre curiosità io leggerò i vostri commenti e deciderò cosa utilizzare prima cosa utilizzare dopo e farvi vedere all'opera tutte le cose che vi ho mostrato in quest'all bene grazie per essere stati con me anche in questa fredda e uggiosa giornata che avete reso solare e calorosa vi mando un grande bacio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video creativo e se vorrete in tutte le librerie con il ricettario dell'arte da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima volta ciao ciao